Ciao! Ciao presto! Allora, come ti chiami? Lorenzo Lorenzo, vai! Air Force One, 110 Vai! Pantaloni, militari, 30 Maglietta, 8 euro, H&M Poi questa, 14 Poi Stone Island, felpa, 190 E questo qua 17 Poi questa Della bicicletta, ok Si Pagata 8 euro tutto E basta Poi questa, va 8 euro Ok, vai a posta, grazie mille Allora, come ti chiami? Bella, sono Andrea per la bicicasta Comunque ti sta quasi baciando il ragazzo dietro Allora, come ti chiami di nuovo? Andrea per la bicicasta Vai! Carabazas 120 strausate Comunque il nuovo album di Kanye Spaccheculi Cheap, vai! 40 euro, easy Cioè, easy, inshallah 300 Gucci 30 euro Raffloren Dopo Omega trovate in casa mille credo Non lo so Ok Posso venire a casa tua a cercare qualcosa? Grazie Se vuoi vieni E il pezzo più importante è 2 euro da Paco Quello che hai conosciuto Paco Che è lui Spaccheculi Ve lo consiglio Ok Vai a posta, grazie mille Allora, come ti chiami? Tommaso 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 Vai! Palm Angels 220 Jeans Gas 100 euro Cintura Industrial Belt 160 Maglietta Kenzo 100 euro Borsello Burlón Per Ispac Borsello Burlón Mi piace Borsello Burlón Per Ispac 100 euro Ok, vai, grazie mille Grazie Come ti chiami? Ciao, sono Michele Saucony 80 euro Clayton 30 euro Maglietta Fred Perry 100 euro Dubottino Guest 100 euro Braccialetto Guest 50 euro Vai, grazie mille 50 euro 50 euro, vai, grazie mille Non perdere il treno, mi raccomando Si spera Che mi hai rotto i coglioni per mezz'ora Dai Intervistami, intervistami Allora, mi porti te Sono Matteo Matteo, vai Easy Side 3.350 V2 220 retail da one-off Pantaloni Cargo Carrar 110 Maglia di Marcello Burlón 220 Felpa Burlón 400 400 E cintura Gucci 270 2.70, vai, grazie mille Lorenzo, vai Blazer Pro-White 400 Pantaloni Custom Fatti da me un mio amico Non so il prezzo Grande Cintura Boston Highland semplice 80 euro Supreme per The North Face 30 euro Coase per Uniqlo 20 euro E Felpa Trasher 80 euro Va, grazie mille Come ti chiami? Nicolás Nicolás Vai Easy 700 Pogato 300 euro Ok Pantaloni 0.275 120 SmineCut 75 75 Udi Vap 400 E Last Ok, vai a posto, grazie mille Mi chiamo Luca Luca, vai Allora, Timberland 200 euro I jeans sono un regalo Ah, i calzini AFF 10 euro Maglietta Tommy 20 euro 20 euro E Giacca militare vintage Sì 20 euro 20 euro, vai, grazie Bellino Berberi Un regalo Un regalo Vai, a posto, grazie mille Alessandro Alessandro, vai Adidas per Raf Simons 350 Pantaloni 40 euro Cintura 150 Puchette Louis Vuitton 150 Felpa 400 Ucchiali 300 Grazie per il commento Grazie per il commento Vai Maglia Complication 80 80? 80, vai, grazie Mi chiamo Mi chiamo Glenn Delle JCDS Presa a Milano 275 Poi dei pantaloni 70 euro Cinta off-white 160 euro Maglione JCDS 375 euro E una colanina d'oro 300 euro E maglia Nike per off-white 71 euro 71 euro Vai, a posto, grazie mille Mi chiamo Alain Iniziamo da in fondo Come sempre Scarpa Nike 97 150 Pantaloni della Guess 90 E magliettina Easy Sotto Easy, cioè Semplice 25 Felpa della B400 Bruxello K 30 euro 30 euro Vai, a posto, grazie mille Come ci chiami? Davide Partiamo dal basso Delle Jordan New York Paris pagate 150 Dei jeans Levis Pagati 30 Maglietta K Per Marcelo Pagata 100 100 E Falco B Pagata 240 240 Vai, a posto, grazie mille Per esempio Pagata 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 Sì